come stai? non riesci proprio a dormire vero? come darti torto? c'è un temporale assurdo veramente Gemma lo senti? è assurdo sta piovendo a dirotto però io oggi sono qui per cercare di farti dormire va bene? bene vediamo se anche senza tutto questo temporale riusciamo a dormire va bene? allora cosa avevo in mente di fare oggi per cercare di farti dormire? ho preparato qualche suono qualche piccolo suono ok? vorrei che tu ti concentrassi su questi suoni va bene? lo farai per me? perfetto perfetto io direi come prima cosa di indossare un paio di cuffie o auricolari e cercare di chiudere gli occhi e iniziamo ad ascoltare il suono del temporale perché personalmente lo trovo molto molto rilassante ascoltato nel modo giusto va bene? quindi voglio cominciare subito subito con un trigger davvero speciale ho preso questa ciotola con dell'acqua e con questo barattolino che è bucato sotto farò cadere un po' d'acqua e senti senti che bel rumore mi raccomando tu chiudi gli occhi e concentrati solo sul suono ma paratolino? ma margono? Grazie a tutti. 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 Meno male che noi due siamo a casa, al calduccio, molto tranquilli. Comunque volevo chiederti perché non riesci a dormire? Hai qualcosa nella testa di particolare? Intanto faccio ancora un po' del suono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, riappoggiamolo. Comunque, perché non riesci a dormire? Eh sì, mi dispiace. Grazie a tutti. Il bello è che i buchi sotto il vasetto che prende l'acqua. Li ho fatti io, quindi ho bucato una scodellina. Allora, allora, sempre per restare per restare per restare per restare in tema dell'acqua voglio usare questa boccettina. E anche uno spray. ha un'acqua. E ha un'acqua. E mi faccio qualche spruzzo in faccia. 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 ora provo un pochino su di te. anche dall'altro lato. Anche dall'altro lato. Mamma mia, lo hai sentito? Che suoni pazzeschi però che fanno. Certo, non sono per niente rilassanti però. Ma io adesso sono qua, come ti ho già detto, per cercare di farti addormentare. Quindi, adesso che siamo stati un po' alzati, ti consiglio di straiarti sul letto, va bene? Bene, adesso chiudi anche gli occhi. Se vuoi guardarmi, fallo pure. Però se senti che il sonno ti sta iniziando a prendere, tu chiudi gli occhi e lasciati trasportare, va bene? Poi ti tolgo io le cuffie quando ti sei addormentato o addormentata, va bene? Adesso vorrei provare con un suono un po' più crunchy, come possiamo dire, dai. Ti piace questo suono? Io lo trovo davvero interessante. Sono, se te lo stessi chiedendo, delle spugne per lavare le padelle. Ma trovo che siano molti più utili usate qua come trigger, va bene? Quindi dai, raccontami un po' come è andata questa prima settimana di scuola, che ormai in realtà sta anche quasi finendo la seconda. Quindi, come sono andate? Che tuoni! Ho capito, ho capito. Dai! È andata comunque bene, no? Non credi? Secondo me sì. Se ascolti bene, si sente molto anche il suono del, come possiamo dire, la pioggia che sbatte sulle grondaie. E si sente l'acqua che scorre in queste grondaie fino a finire per terra. Non capitava un temporale così da parecchio tempo. Però dai, almeno rinfresca un po' l'ambiente. Di giorno fa veramente caldo. Ti è piaciuto questo trigger? Se ti stessi chiedendo dove tengo nascosta tutta questa roba vicino al mio letto, perché anche io come te a volte non riesco a dormire. Quindi cosa faccio? Prendo un trigger e mi faccio un po' di ASMR da solo. Puoi provare pure tu, magari ti rilassa e riesci pure ad addormentarti. Va bene dai, posiamo pure questo trigger. Adesso voglio usare un trigger che fa un suono davvero, davvero particolare, va bene? L'ho preso. Sono qui pronto a sporcarmi un po' le mani. Guarda qua, una spugna da bagno. Aspettiamo che il sapone faccia effetto. Guarda qua. Guarda qua. Com'è? Io lo adoro. Se lo ascolti bene ti isola da tutti i suoni esterni, da tutti i rumori esterni. Quindi sembra che perfino il temporale passi. E' un po' di schiuma. Dalle mani. Ok dai. Ok. 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 Quanto è bello mamma mia. Lo adoro troppo. Ok. 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 Grazie.